Stiamo preparando la città per renderla più bella ed accogliente nei confronti della stagione turistica. Entro la Pasqua e quindi con l'arrivo dei primi turisti, dei primi ospiti, avremo sia la zona centro che la zona mare con un look nuovo, molto più curato e pronti ad essere una bella città anche in vista di Pesaro 2024, capitale della cultura. In accordo con il Comune stiamo facendo dei lavori di manutenzione, ripiantumeremo oltre 400 piante che nel tempo si sono perse nei tornelli, andremo a riempire, andremo a rifare anche l'inserimento di nuove specie vegetative, faremo ai vuole nuove come quella che vedete alle mie spalle, per cui diciamo che cercheremo di rendere la città ancora più bella rispetto a quello che è. Nella stragrande maggioranza dei casi le essenze rimarranno quelle proprio per il completamento dei filari lungo i viali, i viali Trieste, i viali Trento, i viali Cesare Battisti, così come nelle zone adiacenti e limitrofe al centro storico. Poi ci saranno alcune sostituzioni che andranno così a rendere, come dicevo prima, più belle, saranno anche sorprese importanti, perché ci saranno anche varianti di colore rispetto alle tamerici che fino ad oggi hanno ornato e hanno così reso verde la zona mare. Importante è anche la salvaguardia dal punto di vista anche comportamentale delle aiuole, che spesso magari non sempre i cittadini rispettano, in questo caso devono avere un ulteriore occhio di riguardo. Certo, la città è di tutti, la città deve essere da noi curata, ma i cittadini devono avere l'occhio a mantenere, insomma aiutarci anche nell'opera di abbellimento che noi facciamo. Per quanto riguarda il viale, soprattutto le aiuole del mare, cercheremo di video sorvegliarle, perché anche da quest'anno ci sarà l'inserimento di alcune telecamere anche nei confronti degli anni precedenti, proprio per far sì che quelle poche occasioni che abbiamo avuto in passato rispetto a dati vandalici siano praticamente azzerati.